ben trovati nuova settimana e nuovo mag che potete scaricare dai nostri siti o leggere attraverso la nostra app un mag ricchissimo di contenuti vado come sempre a darvi qualche indicazione di massima 25 anni di trevisano in quonso boutique che nasce nel mercato della consulenza e della del contenzioso ip e che nel frattempo cresce evolve noi ne abbiamo parlato con gabriele quonso uno dei due fondatori assieme a luca trevisano e quindi vi raccontiamo cosa è oggi questo studio come si pone sul mercato e come ha fatto soprattutto negli ultimi cinque anni a raddoppiare il proprio fatturato sempre sul fronte legal vi segnalo un paio di altre storie che raccontiamo in questo numero di mag sicuramente merita di essere letto la prima letta la prima intervista agli avvocati del nuovo studio by man che ci raccontano un po il nuovo corso no di questa struttura che nasce a torino ma che adesso investe e lavora sulla sua crescita sul suo sviluppo e affermazione nazionale merita sicuramente la vostra attenzione l'articolo dedicato a herbert smith free e la sua missione per l'innovazione lo studio lancia anche in italia un programma che consente a tutti i suoi avvocati professionisti componenti dello staff di dedicare dieci giorni all'anno ad attività di innovazione un'iniziativa che colpisce ma un'iniziativa che rientra all'interno di un preciso processo di sviluppo che lo studio sta portando avanti sul fronte della ricerca e della tecnologia applicata all'attività professionale voltando pagine andando nel mondo in house vi segnalo la prima intervista rilasciata dal neor rappresentante europeo di acc grande associazione la più grande associazione mondiale di corporate council che è un italiano e che la nostra rosellaria ia quinta ha intercettato per prima ed è andata a intervistare sul fronte finance invece merita di essere eletta la cronaca che la nostra laura morelli ha fatto da londra dove è andata a seguire il grande summit sulla finanza organizzato come ogni anno da legans presenti grandi banchieri come giuseppe castagna vittor massia e anche massimi rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano come il numero uno di confindustria boccia dopodiché sicuramente anche la storia di tico merita un approfondimento e siamo andati a raccontarlo sempre nelle pagine dedicate alla finance community del nostro mag ovviamente si chiude in bellezza e si chiude sempre con le tavole della legge questa volta il nostro kitchen confidential curato da francesca corradi entra nella cucina di miramonti l'altro in piena francia corta da chef leveyer per cui non mi resta che augurarvi buona lettura godetevi questo mag fateci sapere cosa ne pensate e io vi rimando alla prossima ciao